Buona Pasqua a tutti noi. Pasqua ha il significato di rinascita e quest'anno, più di tanti altri anni, questo significato ha ancora più densità e mi vengono in mente tre motivi per i quali questa Pasqua è speciale. Il primo è che in questo momento, in questi giorni, si sta identificando una data in cui riapriremo ed in questo momento avere un obiettivo ci dà nuova linfa per andare avanti e continuare ad essere propositivi e produttivi. Il secondo motivo per cui questa Pasqua ha un significato speciale è che noi come agenti immobiliari abbiamo effettuato una vera rinascita. Perché? Perché abbiamo superato tante barriere tecnologiche, ci siamo adeguati velocemente, il tutto per avvicinarci ai nostri clienti, per essere vicini a loro, per continuare a fare la nostra attività lavorativa in un modo diverso ma sempre vicini a tutti i nostri clienti. Il terzo motivo è che abbiamo dimostrato grande unione, grande unione come gruppo. Ci siamo aiutati, ci siamo stimolati, ci siamo dati idee a vicenda su come era meglio operare e così c'è stato un cambio circolare, costante, che ci ha portato veramente a sentirsi un gruppo coeso, il gruppo toscano. Per questo voglio augurare a tutti noi, a tutti i nostri clienti, a tutti gli agenti immobiliari, Buona Pasqua! Buona Pasqua di rinascita a tutti! Io resto produttivo!